Il fatto che molte persone, la quasi totalità delle persone che ho incontrato mi abbiano non solo fatto i nostri elementi ma anche manifestato e ricordo in me la fiducia perché questa società torni ad essere quello che era prima e qualcosa che ti dà grande energia e anche grande emozione. Uno degli obiettivi che noi abbiamo per me il principale adesso è quello di creare un ambiente societario, di staff, di sociali che sia il più simile possibile a come avevamo 5-6 anni fa, per professionalità, per impegno, anche riconoscibilità nell'esterno è una cosa che ci vuole distribuire, a noi dobbiamo fare una cosa, volarmi, cercare di far capire la squadra, diciamo che se io vivi in tanta voglia di giocare e trovi delle energie insperate un timore intervibile, da presto anche vinto, non c'erano i rischi, non c'erano i primi da chi non c'erano i scuovarmi da campo, e questo è una domande, come un CSKA che ha avuto, come Bologna, Siamo giovani, abbiamo abbastanza tempo per crescere, poi è un'evidente scelta autostaria, quindi è ancora più stimolante, essere un punto di riferimento per me è un grandissimo onore e lo metterò, metterò il mio e la mia testa. Finalmente come stai? Hai visto che scendere sul setterrone e dovresti stare? Sono stato fermo per problemini e anche scelta, sicuramente, ero un po' stanco dell'ambiente, avevo perso l'attività e quindi ero interessato a migliorare altre cose, però poi ero scorso di tornare a giocare e ho sentito la fiamma che avevo una volta e quindi stavo poi crescendo, mi sono detto, una fatica tremenda per i tre mesi, inevitabile, non ho mai pensato di guidare una squadra, però al finale mi ha dato molta forza, è stato sempre questo, un reale, un'attività per me. Grazie mille. Grazie mille. Beh, come diciamo in scuola che mi sono di differenza, perché non ti faccio essere portato qua con un po' di giro di filo, e anche se sicuramente il problema è che il lavoro è un problema, almeno se si buca il territorio, invece se mi sono qui, perché magari un canto, non è che la gente qua non sia a chiare, cioè a voi qui, ma no! E' l'unima cosa che mi ha presa a tutta, quindi spero di poter fare un mio ragazzo, Si, la conseguenza si esce da campus? Grazie a tutti. Grazie a tutti.